Ho comunque avuto un piccolo stiramento all'aduttore, adesso sto bene, ho recuperato, domenica ho fatto la prima partita dopo 20 giorni che sono stato fermo e sto bene, però comunque ho cercato di aiutare la squadra e di stare il più possibile vicino per cercare di fare, che abbiamo fatto quella vittoria contro la Fermana, era una vittoria molto importante. Non è stata dura, non è stata dura, però comunque nei primi minuti ho fatto un po' di fatica, però poi piano piano mi sono ripreso, comunque io sono un ragazzo che comunque ho fatto un po' di più di minutaggio rispetto a Angelo, però voglio fare veramente complimenti ad Angelo per la partita che ha fatto, comunque non è facile che non giochi e fare una partita del genere, gli faccio i miei complimenti, comunque abbiamo cercato di aiutare la squadra nel migliore dei modi possibili, se in fase difensiva che in fase offensiva, abbiamo portato a casa la vittoria. Non è detto ancora, c'è ancora un'altra partita molto importante contro comunque una squadra ben attrezzata come il Ponte d'Era, vediamo come andrà la partita perché non è ancora detto che abbiamo raggiunto la salvezza. Prima cerchiamo di raggiungere la salvezza, poi vedremo di raggiungere altri obiettivi. Poi dipende pure da cosa fanno le altre squadre, comunque devi vedere pure gli altri risultati. Comunque è sempre fino all'ultimo, comunque è un campionato molto equilibrato che devi vedere. Pure la Pistoiese ha vinto contro il Modena, quindi devi giocare fino all'ultimo. Cercheremo di andare in campo e di raggiungere il nostro obiettivo, comunque dobbiamo essere cinici come abbiamo fatto contro la Carrarese, cercare di difendere in questi modi in queste ultime quattro partite.